Perugia di qualità quello visto a Benevento, il problema però rimane sempre lo stesso, la finalizzazione della gioco. Se a Cremonar è andato tutto nel migliore dei modi, a Benevento si è rivista la difficoltà nel concretizzare la mole di gioco prodotta come a Frosinone, eppure un grifo che domina gli avversari più forti sulla carta di questo campionato. Una constatazione che però non è sufficiente per Alvini, che in settimana dovrà smaltire la rabbia per altri due punti persi. Io sono incavolato, vero? Perché? Quindi sono incavolato. Perché? Perché la devi vincere. Ringrazio i miei giocatori per la partita fatta, per la prestazione, ma la dovevamo vincere. Punto. Oggi ritorno al lavoro, all'antistadio per i biancorossi. Assenti due nazionali, Jabua e Ferrarini, impegnati con l'Italia Under 20 e Under 21. Tanto è partita l'asta delle maglie biancorosse in collaborazione con Avanti Tutta. L'obiettivo è quello di raccogliere i fondi da destinare al reparto di oncologia medica dell'ospedale di Perugia. Le prime due maglie, già all'asta da ieri fino a martedì 12 ottobre, sono quelle di Manuel De Luca, indossate in occasione di Perugia Alessandria del 26 settembre scorso e con la quale l'attaccante dei Rifoni ha realizzato il gol, e la maglia del capitano Gabriele Angella di Benevento Perugia proprio di domenica scorsa. Come fa sapere la società, ogni maglia è un pezzo unico e sarà consegnata con un certificato che ne attesta l'autenticità. Per partecipare basterà collegarsi dalle 20 alla pagina Avanti Tutta Onlus, la pagina eBay di Avanti Tutta, e seguire le istruzioni riportate.